Ciao, sono Serena, vengo dal Veneto. Un piatto tipico del Veneto sono i bigoli all'anatra. I bigoli sono una pasta, sono tipo spaghetti, però poco più grossi e corti. Il sugo all'anatra viene fatto con verdure, vengono fatte prima rosolare delle verdure, una carota con cipolla e del sedano. Dopodiché nel frattempo si taglia pezzetti fini il petto di danatra, viene buttato insieme alle verdure con un goccio di vino, dell'alloro e della carmella. Viene fatto evaporare il vino, l'alcol e nel frattempo si lessano i bigoli e quando il pollo è stato cotto per circa mezz'ora, venti minuti, viene aggiunto alla pasta. E' la pasta.